benvenuti a questo giovedì sera con l'approfondimento questa sera su un tema davvero squisito divertente secondo me anche un po' intrigante e ehm poco trattato in realtà spesso ci troviamo in queste situazioni eh io per esempio qualche volta ho avuto il dubbio di essere in una situazione come quella di cui parleremo questa sera eh però bisogna avere degli strumenti per riconoscere di cosa parliamo è di quei bambini che sono incredibilmente brillanti ehm però non sempre riusciamo a lasciarli esprimere così o anzi delle volte diventa quasi un problema e eh queste loro capacità strabordanti eh si ritorcono contro di loro eh ne parliamo perché eh un tema che ha davvero bisogno di tanta delicatezza e anche di un inquadramento scientifico no per imparare a riconoscere le situazioni prima di poter riconoscere come eventualmente aiutarli perché anche loro hanno bisogno di aiuto come tutti noi esseri umani credo io stasera ne parliamo con una persona davvero speciale che io conosco da anni perché comunque eh vedrete che eh nel nostro percorso di Biela Cresce abbiamo incontrato tante persone molto esperte di tante cose che riguardano l'educazione ai bambini ma eh siccome lavora un po' l'apprendimento per da tantissimo tempo è stato anche presidente di po' l'apprendimento insomma il nostro rapporto è stato molto stretto ehm però volevo di chiedervi di condividere immediatamente questo video con tutti quelli che si occupano di ragazzi di bambini eh perché è importante conoscere tutti gli spettri di possibilità eh che ci vengono offerti quando abbiamo a che fare con un bimbo che sta cercando di crescere troppe volte noi adulti andiamo lì con i nostri schemi e eh cerchiamo di eh far adattare loro al nostro modo di comportarci invece conoscere come è meglio aiutarli è una cosa fondamentale non solo per aiutarli a meglio dal punto di vista se vogliamo dell'andamento scolastico ma anche della crescita armonica eh di questi ragazzi della loro capacità empatica del conoscere se stessi insomma una crescita che davvero sia a 360 gradi il titolo di stasera l'avete visto i bisogni trascurati proprio perché come vi ho detto poco fino a poco fa eh insomma non ce ne accorgiamo troppo spesso e eh non accorgendocene una cosa che potrebbe essere una cosa positiva riesce a diventare addirittura un problema ne parliamo stasera con eh Martina Pedron che tra poco vorrei entrare ma prima lancio la la nostra sigletta e che è psicologa e psicoterapeuta di Pol Apprendimento ma anche ehm si è occupata di lanciare il primo progetto in Italia qualche anno fa sulla plus dotazione un primo progetto che è stato lanciato dalla regione Veneto ora passiamo alla nostra sigletta ufficiale con il Castorino vi ricordo che tutto questo è possibile grazie al sostegno non solo degli sponsor ma di tutti voi perché eh Bielacresce ha scelto di essere un'associazione proprio perché si fonda sull'unione di una comunità educante che fa il suo piccolo contributo associandosi e quindi consentendo di andare avanti e anche chiamando altri amici a diventare soci per crescere insieme una generazione migliore adesso sigletta e poi sul palco la nostra carissima Martina ciao Martina benvenuta ciao Rodolfo buonasera a tutti forse questa puntata dell'approfondimento come tu ben sai perché è un argomento davvero dove intanto quando ho saputo che c'era questo campo della conoscenza della psicologia collettiva mi sono detto ma no ma davvero ma come è possibile delle volte uno pensa che sia una fortuna avere una abilità in più e invece abbiamo scoperto che anche qui i bambini eh insomma rischiano di non stare bene e giustamente preparando questo intervento ci siamo detti forse la prima cosa da fare è riuscire a inquadrare la situazione ecco perché il sottotitolo è impariamo a riconoscere la plus dotazione cognitiva e insomma Martina spiegaci un po' che cos'è è un campo anche abbastanza vasto come vedremo è giusto anche fare differenziazione di termini e quindi ti lascio il palco ma sono sempre qui pronto a farti qualche domandina che o mi arriva dai miei suggeritori oppure arriva direttamente a me certo e ovviamente Rodolfo come sempre ti ringrazio per questo invito che sta chiacchierata insieme e tra l'altro mi fa sempre molto piacere parlare di di questo argomento e farlo conoscere e come dici tu eh si comincia sempre dal dal dire di che cosa si tratta che che cos'è di cosa stiamo parlando effettivamente delineare proprio questo questo tipo di costrutto così tanto ampio è una sfida davvero ancora aperta perché se andiamo a vedere per esempio le definizioni eh di di giftness adesso vi farò un po' di chiarezza sui i termini che che vengono utilizzati in questo caso e non troviamo mai una definizione univoca in ambito internazionale quindi sembra che ne esistano più di cento addirittura quindi come fare confusione già già dall'inizio perché il costrutto è davvero ampio multicomponenziale insomma vedremo poi le le varie caratteristiche diciamo che sentiamo parlare solitamente di giftness e gifted è un termine proprio anglosassone nel il dono in Italia viene tradotto un po' con plus dotazione cognitiva iper dotazione cognitiva super dotazione quindi eh in realtà spesso li usiamo come sinonimi eh l'origine proprio di questo termine risale proprio alla fine del dell'ottocento con Francis Galton e già ehm Thurman che è uno psicologo statunitense che ehm ha fatto uno dei primi e più importanti proprio studi in questo ambito nel 1925 eh parlava proprio di di giftedness e lui addirittura ha fatto una ricerca su 1500 bambini con un quoziente intellettivo addirittura superiore a 140 perché poi vedremo qual è ehm anche l'importanza del 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 quoziente intellettivo in questo caso e lui proprio Thurman fu uno dei primi a proporre una sorta di di definizione poi dagli anni trenta in poi eh tantissime persone hanno iniziato proprio tante studiosi hanno iniziato a eh studiare proprio questo costrutto però appunto partiamo possiamo partire da quella che è la la definizione una delle definizioni che noi eh troviamo eh in ambito internazionale che è proprio la definizione che nel 2002 diede una delle più importanti eh associazioni proprio sulla gifted education e eh si tratta proprio di ehm come la definiscono come persone che mostrano o hanno il potenziale proprio per mostrare un livello eccezionale proprio di di performance ovviamente se confrontati con i loro pari in una o più aree e tra le varie aree ecco vediamo qui nella nella definizione vengono menzionate l'abilità intellettiva generale quindi il quoziente intellettivo l'attitudine scolastica il pensiero creativo le abilità di leadership e anche le arti visive dello spettacolo qui vediamo che eh questa definizione racchiude tantissimi eh aspetti e sono tutte le varie sfaccettature che ci sono all'interno eh della della giftenness eh è vero che molti individui che presentano proprio dei livelli eccezionali e non comuni in alcuni ambiti eh è vero che possono presentare tutta una serie di caratteristiche condivise proprio sul piano cognitivo comportamentale emotivo però eh per mh identificare nello specifico la giftenness abbiamo anche bisogno in un certo senso di alcuni parametri di riferimento eh in alcuni casi proprio dei parametri oggettivi proprio di di riferimento e in particolare questa definizione sembra racchiudere anche l'ambito eh relativo più al talento quindi questa è una definizione molto più ampia appunto che troviamo in ambito internazionale e sul talento però magari non ci soffermiamo adesso però ehm ci tengo a precisare che eh quando parliamo di talento si fa riferimento proprio a quelle abilità in cui un individuo o una persona eccelle 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 in un modo specifico eh e potrebbe esserci questa eccellenza senza però avere un profilo di plus dotazione cognitiva quindi non è noi sappiamo che non è sufficiente avere un talento per conseguire risultati elevati in vari ambiti il talento può esprimersi in alcuni ambiti quindi in ambito artistico in ambito musicale creativo sportivo ed è anche difficilmente misurabile di solito questo questo aspetto perciò quando noi andiamo a parlare in particolare l'argomento proprio di oggi di plus dotazione cognitiva ci riferiamo ad alcuni di questi aspetti in particolare come punto di partenza proprio ehm l'abilità intellettiva generale certo non solo questa però è un punto di di partenza perciò mh in sintesi diciamo che la definizione di giftedness porta in sé eh tanti aspetti tante tante sfaccettature quando parliamo ci caliamo più nel contesto della plus dotazione cognitiva come base eh diciamo prendiamo in considerazione quello che è l'aspetto eh importante sicuramente primario umano l'unico di quelle che sono le abilità intellettive generali che possono accompagnarsi anche a dei talenti o a eh eccellenze diciamo in altre aree però è un po' un punto di di partenza questo e eh per parlare proprio per mh trovare un punto di partenza è solitamente parliamo di di intelligenza perché perché l'intelligenza è è stata tanto studiata in vari anni e eh la maggior parte degli studiosi diciamo la riconosce come la capacità di produrre un comportamento adattivo quindi proprio funzionale al raggiungimento di determinati scopi e quindi un comportamento che mi serve per raggiungere i miei obiettivi per affrontare con successo le sfide del degli ambiente cioè tutto quello che mi permette di realizzare quello che è il mio il mio scopo e abbiamo detto prima per identificare proprio la plus dotazione cognitiva eh è necessario in qualche modo identificare di mh parametri specifici oggettivi perché sappiamo che le tipologie di intelligenza possono essere anche qualitativamente diverse perché è vero che l'intelligenza è qualcosa che unisce gli esseri ma e umani ma anche eh differenza in un certo senso eh eh gli gli individui all'interno del panorama italiano abbiamo vari strumenti eh i più utilizzati sono le scale Wechsler che ci servono ci aiutano a misurare l'intelligenza da quando i bimbi sono molto piccoli fino all'età adulta e eh queste scale basano proprio i loro punteggi su questa curva di distribuzione gaussiana ossia che cosa significa che se noi eh andiamo a somministrare un'ampia popolazione italiana a questa scala come è stato fatto come si distribuiscono i punteggi la maggior parte delle persone si trova tra un punteggio avrà un punteggio che varia da 85 a 115 questa scala ha una media di 100 quindi 100 viene considerata la media dell'intelligenza di una popolazione con una deviazione dalla media cioè quanto ci si scosta ci si discosta dalla media di 15 punti quindi abbiamo 85 una media bassa 115 eh una media alta quindi proprio la distribuzione della dell'intelligenza diciamo secondo queste scale nella popolazione può essere rappresentata proprio da questa curva di distribuzione normale e quindi considerata questa curva in considerazione di questa curva la popolazione si presenta proprio in distribuita in questo modo perciò che percentuale avremo circa un 68 e 6 per cento di popolazione che eh si colloca in un punteggio tra 85 e 115 vedete poi negli estremi eh destro e sinistro della curva ehm ci sarà una percentuale minore di di popolazione quindi se andiamo a sinistra della curva abbiamo un due eh per cento di popolazione che avrà alla somministrazione di queste scale un punto otterrà un punteggio inferiore a 70 e qui per esempio abbiamo le disabilità intellettive di di vario grado se ci avviciniamo più alla alla media quindi un quaziente compreso tra 70 e 85 circa avremo circa il 14 per cento di di 13 e mezzo per cento di di popolazione e qui ehm solitamente viene inserito proprio il funzionamento intellettivo limite se ci spostiamo dall'altra parte della curva che è ciò di cui parleremo proprio eh stasera abbiamo un 13 per cento 13 e mezzo per cento di popolazione che avrà un quaziente tra 115 e 130 quindi il suo punteggio sarà tra 115 e 130 quando parliamo di plus dotazione parliamo di plus dotazione quando il quaziente intellettivo misurato tramite queste scale è superiore al 130 quindi di che percentuale di popolazione stiamo parlando del due per cento circa della della popolazione le scale attualmente che abbiamo in italia arrivano fino a 160 circa poi a seconda delle scale che si utilizzano anche in ambito internazionale abbiamo quotienti intellettivi fino a a 200 ma appunto dipende da quale la scala è è stata utilizzata io ho fatto eh l'esempio delle delle scale a livello nazionale quindi qui in in italia se poi andiamo verso gli estremi l'estremo proprio della della curva abbiamo un un per cento circa quindi di bambini questo caso di di popolazione che avrà un quaziente di dell'intelligenza superiore a cento trentacinque e man mano che ci avviciniamo a ehm agli estremi e quindi la curva si assottiglia abbiamo per esempio ehm persone con un pozzente di cento quarantacinque saranno lo 0,13 per cento o con un pozzente di centocinquanta addirittura lo 0,04 per cento a volte eh sentiamo parlare anche di altre percentuali quindi non so l'otto per cento il cinque per cento circa perché? Perché eh probabilmente eh probabilmente all'interno di queste percentuali vengono annoverati anche ehm quelle persone che eh si trovano in questa parte quindi dal diciamo cento quindici cento venti nessuno la parte della curva eh in cui c'è un punteggio superiore alla media però è vero anche che eh proprio per parlare di plus dotazione mh cognitiva proprio dal punto di vista psicometrico ehm è eh c'è un accordo tra studiosi ehm che ci ci dicono che mh sarebbe necessario ottenere in test proprio standardizzati e quindi somministrati a ehm una popolazione molto ampia un quaziente di intelligenza superiore a a cento trenta quindi questo sembra essere proprio il criterio che riceve maggiore consenso proprio come possibile indicatore della presenza di plus dotazione cognitiva però come ci insegna un altro grandissimo studioso il professor Pfeiffer il quoziente di intelligenza da solo non è totalmente in grado di definire proprio in maniera univoca la plus ma si pone però come un indicatore della sua presenza poi ultimamente eh diciamo che la la letteratura anche internazionale propone in sostituzione al termine di intelligenza quello di funzioni cognitive quindi si sposta anche quella che è l'attenzione non più sulla definizione proprio di di questo scostrutto ma eh sull'analisi proprio delle componenti che permettono l'attuazione dell'intelligenza e quindi il contesto sociale fondamentale ma insomma ne parleremo nel corso della della chiacchierata gli aspetti emotivi gli aspetti motivazionali gli aspetti metacognitivi cioè quanto io riesco a ragionare su quello che che sto facendo anche metacognitivi di di controllo e è vero che l'intelligenza del bambino proprio con plus dotazione cognitiva non è maggiore solo in alcuni ambiti ma dobbiamo tener conto del fatto che si pone anche in maniera qualitativamente diversa quindi teniamo come eh base per la possibilità di di riconoscimento quel criterio che è ampiamente riconosciuto insomma dalla comunità internazionale e quindi un quoziente di intelligenza superiore a a 130 però ci dobbiamo ricordare che mh eh l'intelligenza proprio del del bambino con plus dotazione si pone eh come qualitativamente eh diversa eh ci sono effettivamente eh alcune caratteristiche che accomunano eh questi questi bambini quindi c'è una grandissima eterogeneità in in questo ma nelle volevo chiederti una cosa o sottolinearla ehm perché giustamente eh a noi piace misurare tanto per poter discriminare è una cosa soprattutto gli psicologi piace misurare tanto troppo sai che io come difetto principale ho di essere ingegnere quindi esatto quindi siamo fregati eh però in effetti è una cosa che ci aiuta a discriminare però ci troviamo di fronte a un fenomeno che è incredibilmente variegato che è quello dell'intelligenza perché poi hai visto come anzi grazie di aver segnato questa definizione che aggiorna il mio modello perché eh vedere intelligenza come capacità di adattamento in generale non solo in un ambito eh quindi saper risolvere problemi no adattamento in generale ci ci fa esplodere il concetto di intelligenza e quindi dipenderà anche dall'ambiente in cui è inserito ha vissuto quel bambino intelligente perché avrà dovuto adattarsi quindi al di là dei numeri l'accento che stai ponendo è ok ci serve per discriminare c'è questa scala ce ne potranno anche essere altre però dobbiamo fare molta attenzione alla caratteristica qualitativa è come se ci fossero eh dei colori o degli aggettivi che quando vengono quando questo bimbo viene chiamato in un campo ad applicare questa sua adattabilità e lo rende diverso dagli altri esattamente e infatti un bambino con un quoziente di centotrentacinque può essere completamente diverso qualitativamente proprio diverso da un altro bimbo che ha esattamente lo stesso numericamente diciamo ha lo stesso quoziente intellettivo quindi quello che fa la differenza effettivamente è proprio la qualità è è anche vero che con le scale di misurazione misuriamo eh alcuni tipi di di intelligenza quindi solitamente quella visuospaziale quella verbale però eh le scale sono limitate in in questo caso misuriamo la memoria riusciamo ad avere anche eh dei dei buoni indici dell'attenzione però tante cose ci sfuggono che sono proprio tutti questi aspetti qualitativi e anche qui fondamentale e come hai detto anche tu il il contesto cioè quanto un contesto supporta oppure ostacola queste peculiarità di di questi bambini e poi è anche vero eh che eh come dicevamo mh ci sono mh nell'eterogeneità e quindi nella diversità eh di eh di 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 questi profili proprio di di funzionamento eh ci sono quindi delle eh caratteristiche qualitativamente diverse eh ma abbiamo anche delle caratteristiche che possono essere condivise sul piano cognitivo comportamentale emotivo relazionale cioè ricordiamoci che eh è proprio una sinergia tra gli aspetti eh prettamente eh biologici e i meccanismi poi eh ambientali eh che vanno proprio ad interagire in una sinergia per poter poi dare la possibilità all'individuo di esprimersi proprio al al meglio quindi abbiamo degli aspetti eh misurabili quantitativamente e degli aspetti osservabili e infatti volevo puntare un po' l'attenzione su quelli che sono gli aspetti che possiamo osservare e tra l'altro adesso magari possiamo eh andare a a vedere alcune di di quelle caratteristiche che possono avere questi eh questi bimbi tenete conto però da tener conto del fatto che le caratteristiche di cui andremo a parlare non possono essere presenti contemporaneamente e con con la stessa intensità con la stessa frequenza. Certo. Tu se hai bisogno di slide io faccio il tecnico qui dimmi se devo rimetterle se ce n'è. Ah ok no no beh per ora direi grazie grazie mille. Allora ehm andiamo ad addentrarci proprio su quelle che sono le ehm le caratteristiche di di questi bimbi proprio per eh eh capire ma il mio bambino il mio alunno potrebbe avere queste queste caratteristiche di solito la prima eh il primo aspetto che ehm emerge e che è anche facilmente osservabile è la velocità velocità con cui imparano in con cui acquisiscono eh tutto ciò che che ehm proviene dal dal mondo che li circonda. Sono molto veloci nell'imparare quindi basta una o due eh ripetizioni di quell'argomento per averlo già non solo acquisito e interiorizzato ma anche per eh riportarlo nel contesto in cui vivono e quindi utilizzare la conoscenza perché noi possiamo avere anche una grande conoscenza ma poi dobbiamo utilizzarla in maniera funzionale nel nostro contesto e questi bimbi sono molto bravi a fare questo. È vero che sono anche accomunati da un'ottima memoria solitamente. C'è chi ha una memoria più eh di natura più sviluppata di natura verbale, chi è più viso spaziale, però comunque in generale hanno eh non solo una grande capacità, la sua la loro memoria ha una grande capacità ma anche ehm hanno delle buonissime strategie per ricordare tutti gli gli eventi. È vero che questo viene un po' rinforzato nel senso che sono bambini che pongono tantissime domande, sono sempre alla ricerca di spiegazioni. Quindi veloce ad apprendere, buonissima memoria, anche buona, molto buona capacità di di attenzione, quindi di mantenere l'attenzione nel tempo. Questi sono tutti aspetti che favoriscono l'apprendimento, una buona memoria, una buona capacità di attenzione, una certa velocità nell'acquisire eh le le informazioni permettono poi di acquisire con più facilità eh maggiori informazioni e quindi sono sempre sempre alla ricerca di spiegazioni eh stressano genitori, insegnanti con moltissime domande. Sono in grado anche di fare ragionamenti astratti eh fin da molto 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 piccoli eh sono anche molto abili nell'utilizzare delle strategie eh che siano anche flessibili proprio per risolvere problemi. Quindi non si fissano su una strategia ma ne cercano di di nuovi di nuove di di strategie. ehm rispetto alla precocità molto spesso leggiamo anche di questa precocità di alcuni bambini quindi di alcuni bambini che imparano a leggere eh molto prima dell'ingresso alla primaria o a scrivere o a fare i calcoli. Ecco la precocità non è necessariamente una prerogativa del eh bambino con plus dotazione cognitiva. Possiamo avere dei bambini eh con plus dotazione che imparano a leggere o a scrivere in maniera assolutamente autonoma già dai due, tre anni, quattro anni senza l'insegnamento da parte dell'adulto. Questo sì ci può anche essere ma ci sono altri bambini con plus dotazione che invece imparano a leggere e a scrivere esattamente rispetto alle normali età quelle dello dello sviluppo e quindi quando iniziano poi la scuola primaria o ultimo anno insomma della della scuola dell'infanzia e quindi anche rispetto per esempio al linguaggio possiamo avere dei bimbi che imparano a parlare molto presto rispetto alle consuete tappe dello sviluppo o bimbi che anche acquisiscono il linguaggio un po' più tardi però qual è la prerogativa che hanno soprattutto nel linguaggio. Solitamente quando iniziano a parlare indipendentemente da quando inizino da quando ci sia questo questo inizio solitamente hanno un vocabolario che è molto più sviluppato rispetto all'età. Eh hanno abbiamo detto prima questa capacità di imparare facilmente queste nuove parole ehm e quindi di acquisire nuovi termini e di utilizzarli quando poi ehm imparano a fare le le prime frasi a comporre le prime frasi quindi c'è anche un uso eh precoce in alcune di loro per di frasi più lunghe e complesse hanno un linguaggio appropriato dal punto di vista grammaticale sintattico semantico ehm molto spesso sono bambini che hanno una grandissima capacità di eh comprendere e partecipare proprio alle conversazioni degli degli adulti e a volte anche quando siamo di fronte a bambini molto piccoli anche di tre quattro cinque anni abbiamo quasi la sensazione di mh parlare con un adulto di avere di fronte un adulto mi capita spesso eh quando vedo questi questi bambini nella mia nella mia pratica clinica ehm perché quasi dimentico in alcuni momenti che età hanno o che classe frequentano perché davvero nell'interazione soprattutto sul piano cognitivo sembrano eh essere molto più grandi rispetto agli altri e a volte davvero il loro linguaggio è paragonabile proprio a quello di di un adulto e sono bimbi alcuni di loro anche già dal nido sono in grado di di comprendere proprio azioni anche in più in più fasi e non tutti però è possibile che ci sia anche anche questo aspetto alcuni di loro mh addirittura sono in grado di utilizzare il linguaggio in maniera diversificata a seconda del contesto e anche dell'interlocutore quindi strutturano magari delle frasi di livello un po' più avanzato quando interagiscono con l'adulto e di livello un po' più base quando invece interagiscono con i i compagnetti magari di pari età ecco non sempre però questo mh uso del linguaggio eh è funzionale per per loro perché molto spesso soprattutto alla scuola dell'infanzia si trovano a mh eh diciamo interagire con dei compagni che magari iniziano a formulare le prime parole le prime frasi e loro invece hanno un linguaggio abbiamo detto paragonabile a quello dell'adulto quindi non sempre l'interazione e la relazione soprattutto in queste fasi è così semplice per per loro e sono le prime situazioni di difficoltà ecco che potrebbero incontrare. Altro aspetto sicuramente interessante di questi bambini è il forte impegno e la necessità di essere coinvolti in situazioni sfidanti in compiti complessi sono bambini che amano la complessità e che si stufano proprio si stancano del eh della routine dei compiti troppo semplici eh infatti molto spesso mh riceviamo le richieste anche di di valutazione di approfondimento del profilo da parte di genitori e insegnanti perché ci dicono sono bambini che si distraggono in continuazione in realtà abbiamo detto che la loro attenzione è molto buona e quindi perché si distraggono? Perché eh talvolta hanno necessità proprio di essere eh stimolati o comunque di essere messi di fronte a compiti o ricercano ecco loro ricercano dei compiti un po' più complessi un po' più sfidanti lì mh riescono a mettere tutto l'impegno necessario per svolgere il compito se invece cominciano a sperimentare un po' di noia ecco che lì c'è la perdita dell'attenzione quindi il calo proprio di interesse il calo di di attenzione è vero che eh e lo vediamo soprattutto nei dei ragazzini più grandi che l'interesse talvolta è così forte per loro su su alcuni ambiti che decidono anche di eh studiare per esempio solo una materia e quindi sono talmente interessati a quella materia eh che per un determinato periodo di tempo la fanno la loro ragione di vita e mh avvano ad approfondire eh l'argomento di cui di cui sono interessati talvolta tralasciando gli altri quindi ci possiamo trovare anche di fronte a un ragazzo eh alla scuola eh superiore o alla scuola secondaria di di primo grado o di secondo grado che eh decide magari di non studiare qualche materia perché è ritenuta poco interessante ecco eh rispetto a questo mentre mettono tutto il loro impegno tutta la loro motivazione proprio motivazione intrinseca data dal desiderio di imparare eh su aspetti per loro di primaria importanza infatti molti di loro possono avere anche degli interessi eh molto molto specifici molto selettivi che portano avanti finché eh non ritengono di aver acquisito tutte le informazioni su quell'argomento a volte mettono anche in difficoltà genitori e e insegnanti proprio nel porre domande altri invece hanno interessi insomma un po' più più diversificati rispetto a a questo però ecco è da tener conto proprio di di questi aspetti perché ciò che eh loro percepiscono come eh quotidiano rutinario prevedibile eh potrebbe essere fonte di di noia per loro e quindi anche mh eh diciamo difficilmente eh accettabile e potrebbero avere qualche difficoltà ecco a far fronte a a questa noia. Altra ehm altro aspetto che che mi viene in mente prima vi ho parlato di di come si relazionano anche questi bambini con con gli altri ecco talvolta ci potrebbero essere delle eh situazioni potremmo assistere a situazioni di di isolamento perché magari non sempre condividono questi loro interessi così spiccati approfonditi con i coetanei quindi un bambino che mi parla dell'universo dell'origine delle specie fin da molto molto piccolo e quindi interessato a movimenti di stelle pianeti eccetera o che si interessa a temi politici sociali teologici fin da molto piccolo ovviamente a pochi argomenti di discussione con i coetanei e quindi eh talvolta c'è anche la possibilità che eh venga un po' isolato perché proprio fatica a condividere questi interessi un pochino eh particolari e mh proprio nel parlare di interessi ehm loro amano tantissimo molti di questi bimbi amano tantissimo il eh ragionare attraverso il metodo scientifico quindi che siano comunque appassionati o meno di scienza in realtà amano proprio raccogliere le informazioni come fa la scienza quindi raccolgono dati empirici eh fanno ipotesi eh hanno teorie da vagliare analizzano dei dei dati quindi proprio la modalità tipica con cui eh la scienza procede per raggiungere la la conoscenza della della realtà quindi loro amano proprio ragionare in in questi termini ci sono anche però alcuni eh aspetti rispetto proprio a queste caratteristiche eh che mh talvolta possono metterli anche un pochino in in difficoltà e quindi per esempio possono essere molto critici Martina scusa mi parla di effetti eh difficoltosi volevo ehm fare questa piccola riflessione e chiederti cosa ne pensi nel senso che mi metto nei panni di un genitore o di un insegnante e tutta questa meravigliosa voglia di approfondire eh ovviamente può mettere in grave difficoltà tanto perché bisogna dedicare del tempo a rispondere non è che gli non basta dargli le ciclopedia in mano eh però di questo sicuramente di come fare di quali soluzioni parleremo magari in un prossimo approfondimento tra qualche mese con te o con qualche anche insegnante che si occupa di queste cose insomma sicuramente ci sarà modo di approfondire come fare nel dettaglio però il primo messaggio che forse è importante anche eh dare è che non sono aspetti che vanno normalizzati perché un tentativo potrebbe essere di riuscire a diminuire eh questa loro forza dirompente no? Eh spesso invece si parla di armonizzare che è che è diverso probabilmente eh qual è lo spirito col quale noi ci dobbiamo mettere eh non solo ad osservarli e riconoscerli però eh l'animo che ci deve appunto animare quando siamo lì di fronte a questi vulcani ehm eh come fare perché io mi immagino che insomma un po' di 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 reazione ce la potrebbe provocare no? Perché insomma ci sembra importante anche studiare storie e lui niente perché vuol fare solamente matematica o fisica in questo periodo della sua vita. Sì è toccato un punto cruciale assolutamente di 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 come possiamo anche relazionarci a a loro perché è vero che ehm nel osservare nel riconoscere tutte queste caratteristiche ehm ci chiediamo spesso ma eh che cosa faccio? Gli do la risposta? Eh lui tra l'altro lui non si accontenta mai della risposta quindi gli do magari l'enciclopedia in mano eccetera no nel senso ehm per poter come giustamente hai detto Rodolfo armonizzare tutti questi aspetti devo tener conto del fatto che ci sono e quindi imparare a riconoscerli ad accettarli e accompagnare il bambino verso eh quelli che possono essere i suoi i suoi interessi però tenendo sempre conto del fatto che ci troviamo spesso di fronte ad un bambino che probabilmente dal punto di vista cognitivo è pari a due o tre anni a volte anche di più quindi superiore rispetto alla sua età cronologica però dal punto di vista emotivo invece abbiamo sempre di fronte un bambino un bambino con tutti i suoi bisogni emotivi affettivi relazionali quindi probabilmente eh dal punto di vista cognitivo sono in grado perfettamente di comprendere come dicevamo prima eh anche temi politici ambientali eccetera però non hanno quella maturità che ha poi il ragazzo più grande o l'adulto nel riuscire a armonizzare l'aspetto cognitivo con diciamo l'aspetto più profondo poi emotivo quindi cognitivamente riesco a comprenderlo ma poi non riesco totalmente ad elaborarlo e eh in questo ci sono eh è vero genitori o comunque ci ci verrebbe in alcuni casi da potenziare al massimo quelle che sono le mh aree brillanti ecco del del bambino o in cui manifesta particolari interesse oppure altre volte ci viene da frenarlo in un certo senso e quindi eh un po' giocare al al ribasso è proprio questa la la cosa difficile cioè riuscire a trovare un equilibrio tra quelli che sono i suoi bisogni cognitivi però tenendo conto sempre di quelli che sono i bisogni emotivi quindi rispondere in maniera adeguata ma l'adulto si fa sempre veicolo un po' di di informazione mediatore soprattutto delle informazioni perché è vero che il bambino si prende l'eciclopedia e se la e se la legge ma è l'adulto che media queste queste informazioni e questa è un po' la parte più più complessa quindi accettare magari di non sapere tutto e di non riuscire a dare una risposta e però cercarla con lui cercarla insieme in modo da eh appunto mediare tutti questi questi aspetti è vero come come detto tu Rodolfo che questi bambini spesso ci mettono i ragazzi ci mettono proprio in in grandissima difficoltà alcuni di loro hanno anche un grandissimo proprio un altissimo grado di di energia è quella c'è una teoria famosa di di un bel po' di anni fa di di Dabrowski che parla di ipereccitabilità e quando parliamo con i genitori vediamo proprio tutti questi aspetti di ipereccitabilità cioè questa eccessiva ehm attività psicomotoria in alcuni di loro sensoriale immaginativa alcuni di loro hanno veramente un'immaginazione eh che va eh oltre quella che è l'immaginazione comune quella intellettiva ovviamente ma anche quella emotiva e forse questo è anche la parte cruciale loro hanno un vissuto molto forte di di molte emozioni quindi la capacità di sentire e elaborare interiorizzare le emozioni se associato ad un alto senso di di giustizia cosa che solitamente in alcuni di loro c'è giustizia personale e sociale può creare un po' questo disequilibrio ecco nelle loro percezioni e nelle relazioni con gli altri quindi cominciano a diventare critici verso se stessi e verso gli altri qualcuno eccessivamente perfezionista ehm quando hanno un alto senso di giustizia e vi dico credo ci sia più del 90 per cento dei bambini che e che abbiamo visto eh potrebbero non rispettare le regole ecco come dicevamo prima eh decido di non fare una cosa di non studiare qualcosa e di o di dedicarmi ad altro oppure di non rispettare questa regola quando non la rispettano quando non la ritengono eticamente giusta oppure quando non è condivisa e quindi anche questo potrebbe essere uno dei eh delle modalità per poter interagire con loro condividere spiegare proprio la regola e il senso di di quello che che stiamo facendo ecco dimenticavo prima eh qualcuno ha anche un altissimo senso del dell'umorismo che talvolta diventa anche sarcasmo ecco nei confronti eh degli altri quindi dipende un po' da da come da come lo usano però eh diciamo che eh in tutte tutte quelle caratteristiche che eh di cui vi ho parlato e che abbiamo menzionato è difficile per un genitore per un insegnante un po' barcamenarsi e trovare un un possibile equilibrio è vero che talvolta proprio le mh traiettorie di sviluppo del bambino con plusotazione mh sono eh potrebbero ecco non sono potrebbero essere caratterizzate da questa mh asincronia asincronia tra lo sviluppo cognitivo e quindi livello di intelligenza superiore alla media quindi immaginiamo un bambino di sette anni con ehm paragonal con alcuni aspetti paragonabili a livello di di intelligenza a un bambino di nove dieci anni undici anni e quello che è il dominio un po' emotivo e quindi a livello emotivo probabilmente ci troviamo di fronte a un bambino di 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 sette anni quindi di di parietà cronologica o addirittura eh un bambino con difficoltà nell'autoregolare le proprie emozioni quindi è come se avessimo un'intelligenza un bambino quindi di di sette anni immaginiamo con un'intelligenza paragonabile a un bambino di undici e un eh la capacità di gestire le proprie emozioni paragonabile a quella o di un bambino di sette anni oppure di magari quattro o cinque anni questo ci crea proprio mh ehm dissonanza ehm crea molta difficoltà anche nel comprendere quelle che sono le le reazioni di un bambino che magari si butta per terra quando è arrabbiato o strilla non è in grado proprio di di gestire la rabbia la noia eccetera ma contemporaneamente mi risolve equazioni eccetera quindi questa è da tener conto sempre di questa possibile a sincronia che in alcuni di questi bambini potrebbe esserci in letteratura viene descritta anche una mh eh a sincronia anche in alcuni bambini tra lo sviluppo cognitivo e quello motorio quindi non sempre sono eh bravi eccellenti anche nell'attività motoria quindi abilità motorie grossolane fini eccetera alcuni di loro potrebbero avere eh proprio questa differenza tra l'aspetto cognitivo e l'aspetto motorio almeno questo insomma è quello che troviamo descritto anche in in letteratura ed è vero che mh questo sviluppo un po' eh disarmonico mh può creare in alcuni di loro perché ribadisco non c'è in tutti i bimbi un eh contesto per un profilo di vulnerabilità eh soprattutto vulnerabilità con gli aspetti internalizzanti quindi alcune sintomatologie d'ansia che potrebbero poi in un futuro insomma caratterizzare quello che è il profilo del del bambino perciò ecco di questo eh anche di questo dobbiamo tenerne conto nel momento in cui ci relazioniamo con eh con questi bimbi io adesso Rodolfo quasi quasi farei vedere aspetta che non ti sentivo no è colpa mia che ho scritto il microfono ehm bellissima questa cosa quindi eh e dobbiamo veramente ricordarci che per quanto ci possano sfidare sul piano intellettivo magari anche dibattere con noi perché magari hanno dieci anni ma eh una capacità linguistica intellettiva di diciotto o di venti potrebbero essere in realtà dei bambini di sei anni emotivamente e e quindi noi dobbiamo riuscire sempre a tenere i più piani divisi perché magari uno siamo tanto abituati a passare per il linguaggio e quindi quando uno eh si esprime molto bene pensiamo che sia grande sia adulto questo è uno degli errori da evitare assolutamente no cercare di capire anche invece sì ok questo è quanto lui conosce di matematica questo è quanto lui conosce di storia di letteratura ma invece di vita di relazione di autogestione delle emozioni averlo sempre ben presente ci può già aiutare a non commettere errori grandi insomma che poi rovinano proprio la relazione col bimbo con il ragazzo. Esatto i genitori si creano poi spesso delle delle aspettative in questo e le mamme me lo dicono spesso dottoressa cioè parlo con un adulto però poi me lo ritrovo al supermercato che piange si butta a terra e meno male insomma che ha questi anche insomma questi comportamenti sappiamo ricordiamoci sempre che è che è un bambino però ecco distinguere questi piani è sempre è sempre difficile soprattutto per per un genitore un insegnante ma lo è anche per il bambino in realtà quando acquisisce proprio consapevolezza di di questo ho capito dicevi che volevi farci vedere un video sì mi piace mi piace molto eh l'idea eh che che hanno avuto nel realizzare il il film gifted il dono del del talento certo ovviamente come tutti i film è un po romanzato ecco nella sua nella sua storia però mi piaceva proprio a sintesi per per fare un po una sintesi di tutto quello che abbiamo visto come poi ce lo racconta insomma il regista all'interno di di questo film ci racconta un po queste queste caratteristiche in particolare mi ha colpito molto il primo giorno di scuola eh lo vediamo insieme ci rimane un minutino per commentare poi salutiamo certo faccio partire il video ti prego non mi ci mandare puoi continuare a farmi lezioni a casa ti ho insegnato tutto quello che posso fine della questione ne abbiamo parlato ad nausea che vuol dire ad nausea ah lo sai vedi che hai bisogno di andare a scuola chi sta dirmi quanto fa 3 più 3 lo sanno tutti che fa 6 meri puoi alzarti per favore sai dirmi quanto fa 57 molti piccato per 135 ok chi sta dirmi 7695 la radice quadrata 87,7 errori che significa ad nausea ah lo so io credo che sono inizia di un toro il caso vuole che io sia amica del presidere la ux academy nella scuola per bambini e prodigio no ho promesso a mia sorella che avrei dato mia vita normale io credo che debba restare qui Chi è quella signora davanti alla nostra porta? Quella signora è tua nonna. Porca merda. È un bank book tesoro. Che ci fai qui? Tu le stai negando il suo potenziale. Quante bambine di 7 anni stanno a fare calcoli avanzati? Aveva dimenticato il meno sulle esponenti. Mary, perché no? Frank dice che non devo correggere le persone più grandi. I sapudelli non piacciono a nessuno. Chiediamo che venga accordata la mia cliente la custodia della bambina. No! No! Volterai via la bambina e la darai in pasta a qualche gruppo di esperti per farla discutere di banali e passioni con dei vecchi russi per il resto della sua vita. E tu vuoi seppelirla sotto una roccia? Evelyn, ora basta. La farò crescere come credo che avrebbe voluto Diana. Se qualcuno dovesse portare via la bambina, ti soffocherò mentre dormi. Mia sorella voleva che Mary vivesse come una bambina. Voleva che avesse degli amichetti e fosse friccia. Lei ha un'assicurazione sanitaria? No. Ha passato una notte in prigione. Ho piaccione! Qual è la tua tiglia andatura? Distruggere la vita di Mary. Mary! Mary! Vuole comandare? Ne so qualcosa. È una brava persona. Mi ha voluto prima che lei fosse intelligente. Eccoci qua. Ecco, direi che la frase della bambina, quella detta proprio alla fine di Anna Robertson, mi ha voluto prima che io fossi intelligente. Ed è proprio questo, quello che è il messaggio che vogliamo anche dare. e teniamo conto non solo dei loro bisogni cognitivi, ma anche e soprattutto dei bisogni emotivi. e quindi questo credo sia assolutamente fondamentale. Hanno tante aspettative, come avete visto, quando vanno a scuola e iniziano la scuola. E poi a volte le aspettative vengono un pochino disattese. Quindi l'importanza proprio di accompagnarli in questo percorso in maniera proprio armonica. Eh sì, 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 ma già accorgendocene, grazie per i suggerimenti che ci hai dato per capire, perché prendiamoci anche il tempo di conoscerli, nel senso che non vuol dire che dobbiamo correre alla misurazione, ma con queste lenti che ci hai dato possiamo prenderci il tempo di conoscere quello di cui hanno bisogno e può non essere correre per forza nell'approfondire, tanto lo faranno da soli anche, ma è invece magari cercare di capirsi, di conoscere le relazioni con gli altri. Insomma, grazie mille Martina per questa bellissima introduzione al mondo della prostituzione cognitiva e di questi bimbi fantastici, come tutti i bambini, d'altronde. Grazie mille. Adesso mando veramente la sigletta, che era parita da sola, non so che male, e ci vediamo settimana prossima. Ciao Martina, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.